Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Magis of Lotus. Abbiamo da poco concluso il nazionale di Centurion, del quale abbiamo avuto il piacere di presentare lo streaming ufficiale con il nostro commento. È stato un evento davvero molto divertente, è stata una domenica impegnativa a livello di live, ma che ci è piaciuta veramente tantissimo e ci ha divertito veramente molto, con un livello, devo dire tutto sommato davvero non male, soprattutto nelle fasi finali del torneo. Ovviamente trovate questa live completa sul nostro canale, c'è una playlist dedicata, quindi potete recuperare tutte le partite del tavolo 1 e del lato potto di questo nazionale, c'è veramente tutto in maniera accessibile e gratuita. In questo video però andremo a parlare di quello che è stato il meta che ha caratterizzato il nazionale e soprattutto di quella che è stata lato potto, quindi quali sono i giocatori che hanno trionfato in questo evento e soprattutto quali sono le loro liste e i loro mazzi. Andiamo ad analizzare molto brevemente il meta, soprattutto per quanto riguarda i mazzi più presenti, troviamo un primo posto davvero dominante, numericamente parlando, di Jeska Yoshimaru. Jeska Yoshimaru è un mazzo ormai diffusissimo, è sicuramente un tier 1 e probabilmente in questo momento, come abbiamo già detto più volte, il mazzo da battere, quello che rappresenta effettivamente il primo bersaglio principale quando andiamo ad un torneo importante o comunque con un numero di giocatori elevato. È il classico mazzo che ci aspettiamo, è un aggro spinto, dobbiamo settarci con diverse removal e spesso non basta perché comunque ci permette delle partenze davvero davvero ingestibili, a volte ci si aspettava la sua grandissima presenza e questi dati lo confermano. In ogni caso pensiamo che il mazzo sia abbastanza fere, sia gestibile all'interno del formato, semplicemente in questo momento, ripeto, rappresenta il mazzo da battere. A seguire troviamo un 4x di Aragorn, altro tier abbastanza confermato nell'ultimo periodo, mazzo importante perché ci consente di prendere la monarchia, che è un'abilità davvero tanto forte in 1v1 e consente di avere una build abbastanza controllosa che può essere orientata a sconfiggere mazzi aggressivi oppure mazzi un pochino più lenti. Sempre in quest'ottica vediamo infatti la presenza di diversi controllo all'interno del meta. Abbiamo ben 3 Atraxa, 3 Oloro e 3 Tivit, che seppur mazzo, mazzi differenti, rappresentano comunque una categoria di mazzi a base esper controllo. Oloro e Tivit sono molto simili come idea, ovviamente hanno la differenza del comandante, uno è un po' più conservativo, permette di guadagnare tante vite, l'altro un pelino più aggressivo, lasciatemi dire, con un clock più importante. Per quanto riguarda Trax è un po' una via di mezzo con un piano valido, un pochino più forte, però di base potremmo considerare queste nuove liste, questi 9 mazzi come un pacchetto unico da full control, perché poi quello sono questi mazzi, che trovo sia un'ottima scelta in questo meta. perché effettivamente il meta comincia ad essere un po' delineato e in un evento come quello che può essere il nazionale, portare un mazzo controllo in un meta di cui siamo consapevoli, indubbiamente troveremo Jessica Yoshimaru, indubbiamente troveremo Aragorn e poi altri mazzi che andremo a vedere tra poco, effettivamente ci permette di settare una build forte contro quei mazzi e chi meglio di un mazzo contro il puro può fare questa scelta. Quindi un'ottima scelta che vedremo sarà anche stata in parte premiata per quanto riguarda la top. Poi troviamo un 3x di Slimefoot Esquee, una sorta di midrange che sta un po' sostituendo barra parallelizzando il classico midrange del Centurion che invece era Grist, che comunque troviamo in un paio di copie. E poi troviamo tutta un'altra serie di mazzi, varie ed eventuali, troviamo 2x di Grenzo che comunque è un aggro che si può ancora tranquillamente giocare nel meta, un combo puro, Rograk Tevesh, che può performare benissimo, Asmo che tra l'altro è il grande escluso dalla top, non open rating, lo salutiamo, tra l'altro lo conosciamo, salutiamo Martino. Peccato, non open rating, comunque ha dimostrato che Asmo è un altro mazzo davvero davvero molto valido. E poi seguire tutti gli altri, uno per, Bruce, Trasius, Eranjada, Geist, Leo, Magda, Misk, Old, Rootstein, Rocco, Ropello, Sai, Solo Winger, Stamesh, Tazigur, Trasius e Urza. Questi i mazzi del meta, quindi un meta come sempre per quanto ci si aspetta dal Centurion piuttosto vario, con secondo me qualcosina che effettivamente sembra dominare o comunque rappresentare i tire del formato in modo più evidente, ma del quale secondo me vale la pena dedicare magari un video un po' più avanti e verso fine anno, in modo da caratterizzare quello che è stato il meta della stagione e che si è ormai conclusa con questi mazzi come i più forti, diciamo così. Andiamo un attimino a vedere cosa è successo per quanto riguarda la top. Questa è la top effettiva, quindi abbiamo Francesco Botte con Tivit, Vitale con Aragorn, Alberto Casta Traxa, Riccardo Cicerone con Ogak, Marco Pompei con Slimefut Esqui, Francesco Mirizio con Yoshigeska, Akali con Yoshigeska e Tommaso Deva con Yoshigeska. Quindi innanzitutto facciamo i più grandi complimenti a tutti e otto questi giocatori e non solo, a tutti i giocatori che sono andati a questa nazionale e che hanno dimostrato effettivamente di essere degli ottimi giocatori di Centurion. Facciamo i complimenti a loro, i complimenti anche all'evento che tutto sommato è risultato essere piacevole dal nostro punto di vista, quantomeno da esterni e ai mazzi. Andiamo a vedere effettivamente quali sono le liste. Tra pochissimo notiamo solo al volo che in top 8 ci sono ben tre Yoshimaru Jeska. Questo è un dato che non dovrebbe secondo me allarmare, considerando che ci sono nove mazzi in sala, che c'erano nove mazzi in sala, quindi comunque era il mazzo più giocato, era il mazzo anche di cui ci si aspettava più risultato, quindi in realtà averne tre in top non è un problema, non sembra essere un problema così evidente, considerando che il resto della top è davvero molto vario. Zan Putesqui comunque è un midrange. Ogak è un agro midrange, sicuramente più orientato verso l'agro BG, quindi piano molto aggressivo, mazzo molto lean, diverso dai classici agro come potrebbero essere Yoshigeska, Asmo e simili. Atraxa e Tivit sono dei controllo, uno differente dall'altro, uno più intento al value, uno un pochino più controlloso, e Aragorn invece è un po' una via di mezzo fra un controllo e un tempo, con un clock davvero importante rappresentato da Aragorn. Qui comunque un atto potto tutto sommato piuttosto varia, in un meta anche discretamente vario, che devo dire è parecchio sano, quindi davvero non posso che essere contento di come è andato il nazionale. Poi bisognerebbe andare ad analizzare matchup per matchup, ma è chiaramente un lavoro che non può starci in questo video e che rimanderemo ad un secondo momento. Comunque qua sotto vi lascio i bracket molto velocemente della top, vediamo chi ha sconfitto chi fino poi ad andare alla finale, che ha visto affrontarsi Tivit contro Aragorn, che ripeto potete trovare insieme a tutta l'altra top e il resto del torneo sul nostro canale commentata da noi. Andiamo ad analizzare molto brevemente le liste per non dilungarci troppo. Allora, all'ottavo posto parlando di top di Svizzera, quindi questo non è l'ordine della top vera e propria come è finita, ma è solamente l'ordine di classifica di Svizzera. Allora, all'ultimo posto, all'ottavo posto, troviamo un classicissimo Yoshigesuka, mazzo del quale in realtà serve poco, dire poco e niente. Lo conoscete ormai tutti benissimo, come detto in precedenza, il Tire è il mazzo da battere, partenze fortissime, Terracane è un piano sempre forte, Jessica rappresenta un piano midrange o comunque di chiusura molto 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 valido, effettivamente questo Borsagro è l'agro del formato, è il mazzo che detta il tempo, tra virgolette, in questo momento. In realtà, pur complimentandomi con tutti e tre i giocatori, non mi soffermerò su tutte e tre le liste che tra pochissimo, tra l'altro, potete trovare nel report dedicato su 1v1 Commander Centurion, del quale poi magari vi riporto anche qua sotto in descrizione appena esce il link, così potete accedere più facilmente. Ci sarà il link alle liste e tutto quanto, quindi se quando state guardando questo video non lo trovate ancora, attendete pochissimo, appena uscirà il report su Facebook, metterò il link qua sotto in descrizione. Dicevo, non mi soffermerò sulle liste, su tutte e tre le liste, che sebbene abbiano qualche differenza comunque rappresentano lo stesso mazzo, il piano lo conoscete, non nasconde nulla di nuovo. Piano aggressivo con creature davvero tanto forti, spesso e volentieri leggendari per ovvi motivi, dato che in command abbiamo Yoshimaru che prende segnalini proprio grazie a queste. Per quanto riguarda quello che ho potuto vedere durante il torneo, le carte che hanno spostato di più i matchup sono sempre state quelle con iniziativa, che devo dire rappresenta una meccanica in 1v1 davvero sbroccatissima, quindi molto molto importanti, oppure carte che effettivamente permettano la chiusura della partita quasi da sole. Prima fra tutte mi viene in mente una bomba come Eowyn e simili, anche Winota in qualche situazione seppur un pochino più lenta, eccetera eccetera. Il mazzo ha un piano basato su Yoshimaru, ma può veramente vincere anche con delle varie bombe che si trovano all'interno del mazzo e che possono fare partita davvero da sole. E qua abbiamo un grandissimo esempio. Quindi Yoshigeska, 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 3x in top, niente da dire. Mazzo forte, non ci possiamo fare proprio nulla. Slimefootesquii invece è un mazzo che si è confermato un pochino solo nell'ultimo periodo. È passato inizialmente in sordina per poi effettivamente spiccare il volo ed essere attualmente credo il midrange, se si può definire tale, ma sì, di base è questo, più giocato, o comunque uno dei midrange più giocati, forse se la puoi giocare con Grist. A livello di numero. Il mazzo è davvero molto forte perché permette un'etb solida, comunque fare un 1-1 e un 3-3 a questo 3 è ottimo, e un piano ricorsivo davvero eccezionale. Con 4 mana possiamo far tornare lui e un'altra creatura qualsiasi dal cimitero in campo di battaglia, dal nostro cimitero ovviamente. Questo è un piano che rende incredibile questo mazzo, perché considerate che al di là che il fatto che carte come Grist per esempio sono delle creature, ma potete giocare veramente tante creature forti che vanno al cimitero in fretta. Banalmente i ciclanti rappresentano delle carte importantissime per il mazzo, perché cercano la terra all'inizio e poi possono essere rianimate, sono gigantesche e ovviamente in questa lista abbiamo accesso ipoteticamente tra i ciclanti, se non di più, poi di base se ne giocano un paio. Possiamo giocare anche qua tutte le carte con iniziativa, tutte no ma qualche carta con iniziativa, che come detto prima rappresenta una meccanica molto importante da giocare, sia perché è forte giocarla a noi, sia perché è fondamentale cercare di rubarla all'avversario, quindi comunque avere anche solo una carta tutorabile con iniziativa è molto importante. Considerate che questo mazzo tra l'altro ha un sacco di possibilità di tutori, quindi anche solo la monocopia rappresenta davvero una carta importante. Più varie bombe eventuali, abbiamo Shouldred, abbiamo Ragavan, abbiamo i vari elementali che possono andare al cimitero e quindi anche a costo zero, e poi essere rianimati in fretta. Abbiamo il Chaos che è davvero tanto forte perché di base fa Concil Judgment quando entra e quando muore, quindi poi possiamo rianimarlo e farlo nuovamente, eccetera eccetera. Tutte bombe che fanno o value o rimozione o vantaggio in una maniera davvero, davvero, davvero molto importante. Mazzo che a me personalmente piace tantissimo e che credo che possa diventare ufficialmente il midrage più forte del formato, o uno dei midrage più forti del formato, e che lo conferma questa sua topotto. A seguire troviamo un Ogak che invece rappresenta un mazzo sempre un pochino, che passa un pochino in sordina, fatemi dire. Forse di solito preferito, viene preferito Grist e Simili per un piano più midrage, ma a mio parere Ogak comunque è e sarà un mazzo davvero molto forte anche per i prossimi periodi. Di base ha una solidità nel fare Ogak di secondo, di terzo, al massimo, elevatissima e con tantissimi mazzi fare Ogak di secondo on the play può voler dire veramente spostare il game in una maniera molto, molto, molto pesante. Tutti i mazzi non interattivi, questo genere di giocata, lo soffrono davvero tanto. E in ogni caso ci sono dei piani adottabili con mazzi interattivi, secondari, ma che possono portarci comunque alla vittoria. Per esempio apprezzo moltissimo questa lista di Riccardo Cicerone che gioca, decide di giocare anche un piano basato sulle terre, piccolo piano basato sulle terre, come per esempio Dark Damps, palcoscenico, classica combo di Magic, di Legacy, quindi di base ci permette di fare un 20-20 volare indistruttibile più anche Vasta, Mezzo-Vit e simili. Ovviamente supportate da carte come Elvish Reclaimer che non troverò mai, eccolo qua, Elvish Reclaimer che ci permette di tutorarle e la Vampirella, Vampiric X-Mage che anche questa ci permette di scombare con Dark Damps rimuovendo tutti i segnalini da Dark Damps e in più sinergizza molto bene con una nuova uscita con la battaglia di Ikoria, l'Invasion of Ikoria che può tutorare sostanzialmente una creatura ma essendo la Vampira una creatura che può togliere segnalini un permanente noi potremo tutorarla per questo 2p2, 4 in totale tutorarla, sacrificarla, togliere segnalini e quindi poterla flippare immediatamente girate un 8-8 raggiungere che ci fa fare danno come se le nostre attratture non fossero state bloccate quindi davvero un'altra combo interessante vi ho detto questi due ma ovviamente ci sono altri piccoli piani Grist, è già un piano a sé e così via questo per dire che apprezzo molto di più una lista di questo tipo che ha Ogak come piano ovviamente primario e adotta una seconda strategia che può essere davvero molto valida per giocare soprattutto con i mazzi magari più interattivi più fastidiosi che non ci fanno stare giù Ogak Ogak, ottimo mazzo ha fatto una top davvero 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 molto bella seppur inaspettata perché io per esempio non avrei scommesso su Ogak nella top 8 un mazzo su cui invece avrei scommesso è proprio Atrax pilotato da Alberto Casto che rinnoviamo i complimenti lo conosciamo molto bene di Torino la sua seconda top se non ricordo male anche l'anno scorso ha fatto top 8 al nazionale con Wingris Atrax è un mazzo controllo incredibile gioca solo carte forti mazza davvero 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 con una solidità pazzesca dovuta al power level delle carte la possibilità di giocare quattro colori ci consente di giocare tutte carte forti con un power level alto già da sole e Atrax ovviamente se entra non si commenta da sola ci permette di vedere talmente tante carte che non c'è più partita anche considerando che lei ha volare cautela tocco letale e legame vitale non c'è tanto da star lì di base l'obiettivo è semplice fare controllo fin quando non riusciamo a risolvere Atrax o delle minacce ingestibili per l'avversario a quel punto la partita dovrebbe diventare in discesa tra l'altro combo base del mazzo dal quale passa spesso e volentieri per chiudere Dream Alls Dream Alls è una carta in questo mazzo che non ha non ha veramente senso ci consente sostanzialmente esiliandoci una carta dalla mano che condivide un colore con un'altra carta di castarla a costo zero quindi noi possiamo esiliare una qualsiasi carta colorata per giocare Atrax a costo zero solamente che Atrax quando entra ci fa pescare mediamente quattro carte tre, quattro, cinque carte e questo significa che di base avremo sempre carte in mano da esiliare per rifare Atrax cioè diventa veramente improponibile considerando anche che il mazzo ha qualche piccola possibilità di accelerare ci si può presentare la situazione in cui si fa Dream Alls di quarto per esempio e Atraxa o di quinto anche Atraxa e oggettivamente se ti risolvono in faccia una Atraxa turno 4-5 potrebbe essere un grosso problema soprattutto se non abbiamo modo di di non farla entrare o di gestire la cosa quindi controllone davvero tanto solido facciamo ovviamente i complimenti ad Alberto ma il mazzo è veramente prestante e trovo sia un'ottima scelta portarlo al nazionale parlando dei due di quelli che poi sono stati in realtà anche i due finalisti abbiamo un Aragorn mazzo che invece ci aspettavamo di trovare anche in top perché no mazzo sempre controllo però lo fa in modo diverso ha meno carte pesanti carte più agili che possono essere le removal i cantrip con costi più bassi tutta una serie insomma di spell quasi più tempo che controllo in certe situazioni ma soprattutto ha un reparto creature che si può modulare ovviamente a seconda di dell'interesse in maniera più tempo o più controllo questa build è più controllosa ma ci sono anche diverse build più tempo che per esempio integrano le carte con iniziativa e simili qua la scelta credo di non giocare iniziativa credo sia appunto per avere un'opzione più controllo e di base fregarsene dell'iniziativa perché tanto se la fa l'opoli la rubiamo con aragorn che non può essere bloccato e altrimenti ci basta monarchia non vogliamo anche iniziativa credo che il ragionamento sia questo a me piace molto in realtà anche la versione tempo con più creature però nulla da togliere a questa è un controllo che presenta un clock davvero importante e soprattutto è una creatura aragorn che oltre che mettere discreta pressione perché è un 4-4 praticamente imbloccabile ci permette di guadagnare vita contro gli aggro perché ha legame vitale e allo stesso tempo è molto forte anche con i controllo se risolve perché ci fa permettere ci permette di prendere la monarchia che è fondamentale in quanto ci fa fare un vantaggio davvero davvero pazzesco se non se la versa non riesce a togliere quindi ottimo comandante sia contro controlli che contro mazzi aggressivi e questo è importante per un mazzo che si promette di essere controlloso avere già in command una carta forte con più archetipi mazzo che ci aspettavamo e che è stato premiato con questa top il vincitore però del nazionale è Tivittone tra l'altro rinnoviamo l'invito al vincitore di venire magari una volta in live con noi in modo tale da poter avere un confronto un'intervista su come è andato il torneo come mai ha portato il mazzo eccetera quindi lo rinnoviamo anche qui ma ci sentiremo in privato e vedremo di organizzarla perché pensiamo che possa essere interessante anche per la community in ogni caso il mazzo è Tivittone Tivittone è un mazzo che io personalmente apprezzo tanto tanto l'ho sempre trovato un mazzo molto forte Tivit quando entra è oggettivamente un problema è difficile da togliere perché è a war 3 a volare quindi è un clock non indifferente entra e quando fa danno o entra fa mediamente due tesori un clou o più o meno dipende dalle partite però o due clou un tesoro o due tesori un clou comunque fa tre tre sassi che o rampano o ci fanno pescare quindi effetti davvero tanto forti il resto del mazzo non è né più né meno che un un esper controllo un esper controllo classico con tutti i counter le removal del caso le vrate e come chiusura qualche planeswalker come chiusura in più e ovviamente timid ma ripeto non voglio dilungarmi su questa lista e questo mazzo perché mi piacerebbe farlo con il diretto interessato magari in una live dedicata detto ciao ragazzi io vi ringrazio infinitamente per l'attenzione sia di questo video sia che avete avuto per lo stream del nazionale fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se vi ha fatto piacere questo tipo di contenuto che abbiamo organizzato un po' all'ultimo così come purtroppo la live del nazionale che non era non era prevista quindi ci scusiamo anche qua se ci sono stati magari dei problemi tecnici eccetera ma è stata organizzata all'ultimo giorno perché non era non c'era prevista una diretta fateci sapere come è andata se l'avete vista altrimenti potete ripeto recuperarla sul canale scrivete tutto qua nei commenti cercheremo di rispondervi nel più breve tempo possibile vi ringrazio ancora per l'attenzione vi auguro una buona giornata o una buona serata e speriamo di vederci presto ciao a tutti